ciao a tutti oggi volevo rispondere ad uno dei commenti che ho trovato sotto il mio video in cui chiedevo un aiuto appunto su quale argomento trattare nei miei video aspettiamo che passi l'aereo il commento in questione è di lucus diane spero di averlo letto nel modo corretto a c'è un intruso qua karma ciao che appunto mi chiede di raccontare un episodio un'esperienza in cui l'andare controcorrente mi ha appunto regalato delle soddisfazioni un esempio di ciò può essere semplicemente il mio fare video quando ho iniziato a fare questi video ero da solo contro tutti non avete idea di quanti insulti abbia preso di quante prese in giro abbia ricevuto da chiunque anche da persone che credevo fossero miei amici io però nonostante ciò non ho mollato ho continuato a seguire questa mia passione e l'ho portata avanti nel tempo per quasi un anno ormai fino ad oggi che ormai mi trovo comunque con una community che mi dà grandissime soddisfazioni e mi ritrovo con diverse proposte di lavoro tra l'altro grazie a questi miei video che faccio di recente infatti ho collaborato con diversi artisti ho realizzato dei video musicali di cui vado fierissimo che mi piacciono tantissimo uno proprio recentissimo che vi lascio qua sotto in descrizione e vi assicuro che nel tempo ci saranno tantissime novità che usciranno e tutto ciò grazie ad essere andato controcorrente grazie all'essermi trovato da solo contro tutti così facendo mi sono messo alla prova ho scoperto una parte di me che credevo di non avere e credetemi non c'è soddisfazione più grande di questa ovvio c'è sempre da farsi il culo quello è normale quindi se posso lasciarvi un consiglio vi dico semplicemente di seguire le vostre passioni non abbiate paura del giudizio degli altri non vale nulla quello che conta è quello che avete dentro voi e l'importante è tirarlo sempre fuori nel migliore dei modi beh anche per oggi questo video finisce qui fatemi sapere se vi è piaciuto con un commento qua sotto oppure con un like vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di seguirmi su instagram e quindi noi ci vediamo nel prossimo video ciao